Prima vittoria stagionale del Verona a spese del Bologna che anche oggi è parso inconsistente e lontano da accettabili schemi di gioco. Il risultato premia meritatamente la squadra fidata a Chiappella per il gioco armonioso e vivace a tutto campo. E il risultato sarebbe stato ben più consistente se l'arbitro non avesse annullato un secondo gol di Musiello, che vediamo al termine di quest'azione condotta con Mascetti e Bergamaschi mettere a segno la rete valida al nono di gioco. Poi il Bologna ha cercato di reagire, ma con un gioco troppo centrale che si spegneva i limiti dell'area veronese, favorendo l'ordinata difesa scaligera pur priva del valido apporto di Franzot, che dal quarto d'ora della ripresa non si è potuto più muovere utilmente per una distorsione al ginocchio. Grazie.